L'Avezzano e Mateus Dos Santos ancora insieme. La conferma più attesa in casa marsicana è arrivata, un grande sforzo quello del presidente Gianni Paris che ha secondato le richieste del centravanti brasiliano, miglior marcatore del Girone F nell'ultimo campionato. L'Avezzano va dunque completando la raffica di permanenze dal tecnico Giampaolo ai pilastri della squadra che si presenterà in aste di partenza come una naturale candidata alla vittoria del campionato. Il modo migliore dunque per cancellare la delusione per la trattativa con l'ex aquilano Boldrini che si è accasato al Modena. Ora tra le ultime conferme da centrare vi sono quelle delle baby Michael Deramo, l'esterno Saverio Pellecchia e il centrale Lucas Bardella tenendo presente che l'Avezzano, come ha dichiarato il DS Iacovitti, non farà spese insostenibili. A proposito di attacco, il Pineto ha praticamente sistemato il reparto dopo l'acquisto di Saverio Pedalino e è arrivata la conferma di Simone Tomassini. Potenziale di fuoco dunque per la compagine adriatica che si candida ad essere anch'essa una pretendente alla vittoria finale. Chi invece cerca l'uomo gol per la stagione è il Francavilla, anche se il patron Candeloro continua a guardare altri lidi e dopo l'interruzione della trattativa col patron del Teramo Campitelli, ora ha avviato contatti con il presidente Bellini e il suo entourage per tentare di rilevare le quote di maggioranza dell'Ascoli. Il Francavilla aveva anche fatto un pensierino a Dos Santos, ma ora dovrà cambiare obiettivo. I nomi che circolano sono quelli dell'ex Rieti Luigi Scotto e dell'ex Teramano Giuseppe Gambino. Se per alcune società le priorità sono i giocatori, per altre si è decisamente più indietro. È il caso dell'Aquila, dove un passaggio decisivo ci sarà dopodomani, giovedì, quando il manager romano Gianlucaius firmerà il preliminare per l'acquisizione della maggioranza delle quote sociali e successivamente sarà nominato il nuovo CDA. Subito dopo, salvo colpi di scena, si procederà all'iscrizione al campionato e alle prime mosse relative a staff tecnico e all'estimento rosa. Priorità allenatore a San Nicolò e Giulianova. In casa giallorossa il DS Dottavio ha tentato la mossa senza azione Ivo Iaconi, che però ha declinato. Guido Di Fabio resta allora in pole position, ma Dottavio ha anche incontrato l'ex tecnico del Chieti Tiziano De Patre e l'ex campo basso Antonio Foglia Manzillo. Nelle prossime ore la scelta. Quella che a San Nicolò potrebbe ricadere sul marchigiano Mirko Cudini, ex difensore di Torino, Ascoli e Salernitana, che nel 2017 ha vinto il campionato di eccellenza delle Marche con la San Giustese.